Leonardo Silva Revisore Cosa vuol dire andare oltre? È forse un'esperienza esclusiva, riservata a qualche raro, intrepido avventuriero del limite, dotato di straordinario talento? Io non credo. Io penso che l'andare oltre sia la chiave di lettura della vita, il codice unico e originale per realizzare e interpretare se stessi e i talenti con cui si nasce, con cui ognuno di noi nasce, e che rischiano di restare soffocati tra i molti condizionamenti che si subiscono. Talenti che invece, se sviluppati, andrebbero a sostenerci nel percorso di crescita personale, portandoci verso benessere, salute e felicità. Felicità lo so che è una parola grande che spesso scatena scetticismo, però le neuroscienze ci danno una buona notizia e ci dicono che la felicità è una competenza e quindi, proprio come una competizione, necessita di preparazione, educazione, allenamento, motivazione e io aggiungo anche consapevolezza del limite. Ecco, quando penso alla complessità del concetto di limite e alla sua enorme importanza per la nostra crescita personale, l'unica analogia che trovo pertinente è quella con il fenomeno della supercompensazione. La metodologia dell'allenamento è quella disciplina che studia i mezzi e i metodi atti a sviluppare il talento sportivo e portarlo alle sue massime potenzialità prestative. Il principio cardine della metodologia dell'allenamento è la supercompensazione, che si basa sull'evidenza fisiologica che il nostro organismo vive in omeostasi. Se noi siamo in grado di somministrare un allenamento che vada a stimolare il limite che segna il confine tra l'equilibrio e il disequilibrio, inneschiamo un meccanismo di compensazione che poi si trasforma in supercompensazione, andando a ripristinare sì le omeostasi, ma a un livello significativamente superiore. Questo è il meccanismo che ci ha permesso di evolverci, di adattarci, di migliorarci. La cosa interessante è che però il miglioramento avviene solo se noi somministriamo lo stimolo allenante nella fase acuta della supercompensazione, che è quella che si verifica solo dopo che sono stati elaborati e assorbiti tutti gli effetti dello stimolo precedente. Se noi non rispettiamo questo tempo, dando stimoli troppo ravvicinati, andiamo in sindrome da overtraining. Al contrario, se osserviamo pause troppo lunghe, l'organismo resta in uno stato di sostanziale immobilità. Ecco, quando mi chiedono se il limite sia un confine da osservare o una soglia da varcare, non posso che rispondere tutte e due. E probabilmente questo dualismo è insito nella natura stessa del concetto, visto che anche etimologicamente il limite ha una doppia radice, limes limitis, limen liminis, che significano proprio confine e soglia. Quindi, il limite è un confine che definisce un ambito, l'adattamento e la familiarità a quell'ambito mi consente di trovare gli stimoli per andare un po' oltre. Un po' come succede con un orizzonte, che man mano che mi avvicino, si sposta un po' più in là. È evidente che talento e limite sono due concetti imprescindibili l'uno dall'altro e che lo sviluppo del talento ha bisogno dello sforzo, dell'impegno, della fatica di muoversi in quella terra di confine che il limite rappresenta. Ma non è un movimento che devo fare solo con la mia dimensione fisica, ma anche con quella psichica. Infatti le analogie tra fisico e psichico sono più che evidenti. L'omeostasi è la zona comfort, il disequilibrio è la crisi, la compensazione è l'adattamento. E questo limite che diventa soglia, questo disequilibrio che torna a omeostasi ma a un livello superiore, non assomiglia tanto al concetto di resilienza, del negativo che diventa positivo, del problema che si trasforma in opportunità? Ecco, la sensazione che il limite sia un confine che definisce un ambito verso il quale io sviluppo sia un adattamento fisico che psichico, non mi consente quindi di parlare di ecologia del limite e di uso e sviluppo sostenibile del talento? Attraverso la mia storia vorrei dirvi di sì, che si può. I due ori olimpici nel ciclismo su pista sono senza dubbio il fiore all'occhiello della mia carriera. Ma non è questa la ragione se talvolta ancora il mondo dello sport si ricorda di me. La cosa rilevante è che io ho iniziato con l'atletica leggera e ho terminato con il Boba 2. Sono stata un'atleta molto precoce. A 16 anni facevo già parte di quella meravigliosa squadra nazionale assoluta anni 80, tra cui Sara Simeone e Gabriella Dorio. Io facevo l'heptatron, l'equivalente femminile del decathlon, ma la mia disciplina forte erano i cento metri ad ostacoli. Record su record, vittoria su vittoria, il mio destino sembrava scolpito nella pietra e invece accade l'imprevisto. Un infortunio al ginocchio mi bloccò. Iniziai un lunghissimo pellegrinaggio di medico e medico, ma inutilmente non guarivo, anzi le terapie spesso peggioravano la situazione. E così, dopo più di due anni di resistenza ostinata, esausta, dovetti rassegnarmi, accettare la situazione e lasciarmi ispirare da quello che questa nuova esperienza aveva in serbo per me. Un gruppo di amici triatleti mi convinsero per riabilitarmi ad andare in bicicletta. E così ne comprai una di seconda mano e iniziai a pedalare verso il mio incontro con la serendipità. Non volevo dire serenità, ma proprio serendipità. Sapete, no? Questo bellissimo termine che indica il trovare qualcosa di inaspettato mentre si sta cercando qualcos'altro. Il misto tra il guizzo dell'ingegno e la coincidenza fortuita che è spesso alla base di rivelazioni positive per la quotidianità, così come anche di scoperte ed invenzioni. Ecco, io che volevo solo riabilitarmi nel corpo e nell'anima, mi ritrovo di nuovo in pista, questa volta un velodromo, all'inseguimento del mio sogno olimpico. Non fu facile. Non fu per niente facile. Non lo fu emotivamente perché mi chiamavano la marziana o quella uscita da Blade Runner e già questo spiega tutto. Ma sapete come avviene l'accettazione del nuovo, meglio del diverso? Deve passare attraverso le tre forche caudine della resistenza, della derisione e solo alla fine, se vinci e talvolta nemmeno in quel caso, arriva l'accettazione. Non fu facile psicologicamente perché realizzare un progetto completamente nuovo è anche una questione di fiducia e non esistono riferimenti se non quelli che tu stessa stai tracciando. E non fu facile nemmeno all'interno del mio stesso staff che era diviso fra detrattori e sostenitori. Ricordo come fosse ieri il giorno in cui mi visitò per la prima volta il medico della squadra nazionale e mi disse guarda, prima che tu investa troppo in questa per te nuova disciplina vorrei dirti senza offesa ma tu non hai il fisico adatto per correre in bicicletta le cicliste hanno un'altra morfologia. E aveva ragione fino a quel momento era veramente così. Non fu più così però dopo i giochi olimpici di Atlanta 1996 a meno di due anni da quella frase quando vinsi la medaglia d'oro nella gara dei tre chilometri con record del mondo e record olimpico. fece scalpore tutto la mia storia Grazie ma sapete che non ve lo dico per questo ma è solo perché sappiate che se una cosa non è mai successa non è detto che non debba succedere mai. Bene, quindi fece scalpore tutto ovviamente i risultati la mia storia la posizione con cui corsi definita la miglior posizione aerodinamica mai vista il rapporto che usai proibitivo anche per un uomo in una gara con partenza da fermo e il modello di prestazione venne completamente stravolto da gara di mezzo fondo veloce divenne una gara di resistenza alla velocità. Quattro anni dopo ai giochi olimpici di Sydney per confermare la mia carriera all'insegna dell'eclettismo rivinco la medaglia d'oro ma in un'altra disciplina la corsa a punti specialità sulla quale investo dopo che la Federazione Ciclistica Internazionale decide di porre un limite alla lunghezza massima della bicicletta che mi impedisce di fatto di correre nella stessa posizione con cui corsi ad Atlanta. Divento così per diritto conquistato sul campo un importante testimone del trasferimento del talento che a me piace chiamare riciclo per via del mio animo ambientalista e anche un po' provocatoriamente perché so che questo termine evoca spesso sentimenti negativi e invece probabilmente per la spontanea associazione al concetto di rifiuto e invece io vorrei che emergesse in tutta la sua bellezza perché riciclare vuol dire rimettere in circolo rinnovare, ridare vita a ciò che non ne ha più. Bene, dopo la mia esperienza il concetto del trasferimento del talento viene accettato, studiato e portato come risorsa per rivalorizzare i talenti persi e bruciati per studiare i transfer positivi tra le diverse discipline tra l'apprendimento motorio e cognitivo per ridurre i danni da iper specializzazione e anche per dare uno scossone ai compartimenti stagni e io direi anche ai comportamenti stagni che l'iperspecializzazione crea nello sport così come in tanti altri ambiti della società isolando e impedendo sinergie. Se devo riconoscere un denominatore comune dei risultati diversamente importanti della mia storia sportiva e non sportiva senza ombra di dubbio citerei la formazione perché io sono nata e cresciuta con un allenatore che credeva tantissimo in polivalenza, multilateralità e multidisciplinarietà forte della convinzione che più ricco è il vocabolario motorio più ampia e solida può essere la base e di conseguenza più alto il vertice della mia piramide prestativa. Certo è che parlare di multidisciplinarietà con l'iperspecializzazione che sta vivendo la società moderna può sembrare un paradosso ma io la trovo l'unica risposta alla necessità di vedere le cose nel loro insieme perché più sofisticato più complicato è un sistema e maggiore è l'esigenza di saperlo vedere nella sua totalità. Credo che il concetto di multidisciplinarietà abbia inoltre un'importante funzione anche per la crescita personale perché è proprio dalle nostre esperienze diverse dai nostri tanti talenti che il pensiero divergente attinge per dare vita alla creatività e darci la possibilità di rinnovarci che non è un'esigenza solo per gli atleti zoppi ostinati come lo ero io lo è sicuramente per tutti gli atleti visto che la carriera seppur di successo è fisiologicamente breve ma è una necessità per tutti perché a chiunque può capitare di accorgersi di aver imboccato la strada sbagliata oppure di subire un intoppo o ancora a chiunque può capitare di aver bisogno di stimoli nuovi per continuare a fare bene quello che già sta facendo e infine credo che la multidisciplinarietà abbia un'importante funzione anche dal punto di vista pedagogico perché vuol dire elasticità vuol dire tolleranza capacità di vedere nella diversità un valore e anche non restare ancorati alle etichette non aver paura di dimostrarsi vulnerabili e di mettersi in gioco in ambiti diversi una volta durante un'intervista un giornalista mi chiese ma perché quando sei guarita non hai ricominciato a fare atletica e la mia risposta fu la stessa per la quale non continuai a correre in bicicletta quando con due ore olimpici al collo forse finalmente avrei anche potuto capitalizzare qualcosa per lanciarmi invece con il Bob verso le olimpiadi invernali di Salt Lake City 2002 la mia risposta fu la quotidianità perché perché ha in sé due grandi rischi che allenarsi diventi sinonimo di allenarsi e che il desiderio ripieghi su se stesso diventando un'ossessione e l'unico rimedio che conosco a questi pericoli è quello di porsi un obiettivo che si è sentito col cuore prima che pensato con la mente capace di riempire di entusiasmo il duro lavoro quotidiano il qui e ora perché ricordiamoci che il talento senza applicazione è nullo e ce lo ricorda bene la teoria dei dieci anni di Bloom ecco se io riesco a fare questo la centralità dell'attenzione si sposta non è più sull'obiettivo ma sul percorso che intraprendo per raggiungerlo quindi non vivo in attesa del futuro e nell'ansia del risultato che potrei anche non ottenere ma vivo e mi arricchisco delle esperienze che il percorso intrapreso mi offre così facendo trasformo il presente che è l'unico tempo che abbiamo in un dono continuo ecco mi piacerebbe che anche del limite se ne parlasse come di una competenza che ha bisogno di educazione preparazione motivazione per portarci tutti un po' oltre talvolta per diventare grandi campioni grandi artisti grandi scienziati ma sempre per portarci un po' oltre quello che noi sappiamo di noi stessi dove ciò che ci unisce ci completa e ci dà felicità è molto più di ciò che ci divide simbolicamente ho voluto intitolare questi pensieri il limite ignoto perché vorrei rappresentassero il mio piccolissimo e personalissimo monumento in memoria dei tanti talenti che si perdono e si spengono prima ancora di essere stati riconosciuti grazie applausi grazie grazie